Ciao, sono dentro a Gravity Sketch, programma di disegno in realtà virtuale che vi ho già mostrato altre volte e l'ambiente che vedete è un ambiente personalizzato e si può cambiare dal menu, quello lì col tasto blu qui, rotellina, workspace, come vedete ci sono vari preset, quello grigio che è quello classico, nero oppure questo appunto che è adatto a ambientazioni naturali, comunque ce n'è altri, potete provarli questo qua è carino col cielo anche perché si può andare a cambiare i colori dell'orizzonte e del terreno spingete in giù per scegliere un colore più scuro e tirate in su per scegliere un colore più chiaro HDR permette di colorare anche il vostro ambiente, disegno qualcosa, questo qui è grigio se scelgo HDR viene illuminato coi colori della scena e se lo togliete torna tutto grigio neutro se lo mettete il colore si modifica un po', come si disegna? Ci sono i vari strumenti questi qui di tutti questi strumenti uno dei più utili secondo me è questo, lo strumento volume, lo uso moltissimo se traccio una forma riesco quindi a fare degli oggetti convessi, quindi vedete se traccio una specie di cerchio ho ottenuto una forma molto piatta, se traccio e poi vengo su ottengo una forma tridimensionale diciamo che si espande in tutte le dimensioni. Qual è il limite di questo strumento? Che posso creare solo forme converse, quindi anche se vengo su qui con una punta poi scendo e vado su di là ecco che queste due punte vengono unite, non c'è modo di avere un oggetto concavo. Ovviamente lo posso fare creando più di un oggetto e mettendolo insieme, quindi se io faccio questo adesso ho creato più oggetti però in pratica sono riuscito a ottenere qualcosa di concavo. Si può premere e cliccare per ricopiare lo stesso oggetto più volte e una volta che si prende più di un oggetto copiando si copia l'intero gruppo di oggetti. Il gruppo rimane staccato, se selezionando un gruppo si preme questo tastino qua viola, il gruppo viene messo insieme quindi basta toccarlo solo in un punto ed è più facile portarlo in giro nella sua interezza. In questo momento vedete delle forme spigolose, vedete molto spigolose, perché ho selezionato un'opzione qui che è questa low poly. L'opzione low poly è utile appunto per ottenere spigoli vivi e in particolare nella modalità point nella quale devo cliccare con clic successivi e poi confermare con l'altro grilletto per ottenere una forma, posso veramente creare delle forme generate dal minimo numero di facce. Queste hanno proprio il minimo numero di facce triangolari possibile e ve ne accorgete nel momento in cui cominciate a duplicarle tantissimo, poi le raggruppate, duplicate i gruppi e nel giro di un attimo la scena può diventare molto complessa. Se siete come me dentro al Quest, che quindi non ha la potenza di un computer normale, potreste cominciare a sentire il fatto che fa un po' di fatica e rimane un po' indietro, quindi la modalità low poly è utile per quello. Se la togliamo e torniamo nell'input normale, con un pennello grosso si ottiene anche qualcosa di molto molto tondo. Con un pennello più fino semplicemente abbiamo dei bordi più netti, ma rimane l'aspetto tondeggiante del tutto, vedete? Un aspetto molto tondeggiante. Quindi sapendo queste caratteristiche dello strumento, con questo si può fare un po' di tutto. Io adesso lo metto su low poly per fare delle rocce. È molto naturale creare delle forme che possono, io adesso già qua comincio a duplicare, però ovviamente posso continuare a disegnare, posso immaginare di creare una montagna, adesso ho tracciato questo elemento qua in basso, quindi tiro su tutto. Immaginiamo una parete di montagna qua, così con un promontorio che esce e magari poi la montagna prosegue, giusto per avere degli elementi nel caso che la mia inquadratura sia bella stretta, però vedete adesso ho tracciato questo promontorio che esce, posso cominciare a ingrandire, venire vicino e aggiungere i dettagli, magari la mia scena sarà ambientata qui sopra e quindi adesso da qui aggiungo, qua adesso facciamo così per avere proprio una bella parete di montagna, ecco adesso qui comincio ad aggiungere altri dettagli perché magari immagino che la mia scena accadrà qui sopra e avrò un'inquadratura da qui o perché no anche da qua giù sulla punta, come vedete siccome sono dentro alla scena posso facilmente posso facilmente esplorare, muovermi e costruire con questo strumento appunto è davvero facile e rendere ancora più complicata la situazione. Magari adesso sto facendo tutto con un unico materiale, però potrebbe avere senso scegliere un colore più scuro, adesso io scelgo un grigio più scuro, ecco adesso è tanto scuro, facciamo così, provo, seleziono, cambio colore che sia scuro ma non tanto più scuro, giusto per distinguere magari qualche elemento diverso perché poi dentro a blender potrò assegnare quelli vedo solo come dei grigi, io non perdo tanto tempo a creare i materiali qua perché li creo poi dentro a blender, però qui uso colori diversi perché prima di tutto mi rende proprio visivamente chiaro l'esistenza di più materiali qui sulla mia scena e di come possono essere distribuiti questi diversi materiali, però nella mia testa li vedo come rocce di tipo diverso e non ho bisogno sinceramente di renderli davvero diversi mettendoci qui tutte le venature della roccia, questo lo farò in blender, qui mi limito a dargli delle forme che per me siano uno schizzo, ecco, ora se fossi qui devo avere qualcosa in più ovviamente per cominciare a dare anche un senso di scala, magari qua adesso andiamo ad aggiungere qualcos'altro anche qui, se voglio riprendere il materiale di prima lo trovo qua nell'elenco e quindi lo seleziono e adesso magari aggiungo degli elementi con il materiale di prima questo non mi piaceva questa punta qua com'era ma voglio semplicemente dargli un attimo di complessità in più, la ingrandisco moltissimo e il vantaggio della realtà virtuale è proprio quello di essere dentro e quindi di poter provare le cose esattamente per come sono, quindi posso immaginare di trovarmi qui guardare, capire cosa succede, mettiamo anche qualcosa di vivo magari o anche comunque di morto ma di più significativo, prendo un altro materiale ancora, magari lo prendo colorato proprio per riuscire a vederlo meglio e faccio con un altro strumento, prendo lo strumento ink, con lo strumento ink è molto naturale tracciare dei segni, anche qua lo strumento ink ha le sue opzioni e anche lui ha l'opzione low poly nella quale come vedete crea meno punti, sinceramente la preferisco in questo caso perché poi avendo meno punti mi è più facile dargli una regolata qui e aggiustare un po' le cose, per esempio con lo strumento ink le punte sono cose sempre troppo puntute, comunque posso sempre togliere low poly anche dopo averlo fatto, ecco quindi quando traccio lascio low poly in maniera che non mi faccia molte forme, poi magari entro e lo tolgo però almeno ho ottenuto pochi punti, ecco, questi li ingrandisco, questo li impicciolisco, ecco adesso cerco di non metterci troppo tempo ok, adesso abbiamo messo anche qualcosa di naturale e quindi abbiamo un minimo di vita in più posso prendere anche questa parte e andare a creare un gruppo col quale lo porto in giro e magari lo metto anche in un altro luogo quando ho finito con la scena posso andare ad esportarla allora prima di tutto la devo salvare quindi save, save sketch e gli do un nome allora promontorio promontorio ne ho già fatta uno, vedete la scritta in rosso allora facciamo promontorio 2 e do ok adesso lo sketch viene salvato nel formato di gravity sketch ma quello che mi interessa non è solo salvarlo ma è esportarlo ora quando esportate vedete vi dice, vi aiuta a capire quali saranno le dimensioni come vedete è piccolo, un metro e nove è davvero piccolo adesso potete comunque regolare anche da qui, potete prendere la scena e ingrandirla da qui e anche ovviamente riportarla, come vedete la si muove per intero e quindi quando la porto posso anche spostarla in maniera tale che il centro che corrisponda a quello che poi mi aspetto in blender e quindi ecco perché anche questo piano può essere utile settings, sketching aid, stage floor lo vado a tirar via e non ce l'ho più quindi sì, questo stage floor bianco è una scelta mia di averlo o non averlo ora sono ancora, torno nella funzione di esportazione adesso è un po' più grandino, comunque è troppo piccolo non sto adesso qui a dargli le vere dimensioni possiamo farlo tranquillamente in blender però almeno così possiamo vedere subito per esempio che è storto a dire il vero, il davanti è di qua quindi posso prendere la mia scena e girarla quindi gestire in questo momento e magari anche inclinarla in maniera diversa quindi gestisco in questo momento questa parte per non aver sorprese dopo in blender va bene, do conferma questo recenter vi mette da solo il centro di nuovo in mezzo alla scena ma la nostra scena ha un centro fuori appunto export, il nome va benissimo lo stesso non si sovrascrive perché il formato è diverso adesso l'oggetto è stato esportato e siccome non ho usato il cloud lo porterò dentro a blender prendendolo da qui come file ci vediamo adesso dentro a blender e lo importiamo e vediamo come proseguire quando scaricate il file che lo abbiate fatto dal cloud oppure direttamente dall'apparecchio vi trovate come un file zip con il nome che avete scelto dentro a questo file zip e bisogna estrarne i contenuti quindi estraetelo con il modo che volete vi ritrovate due file obj contiene i veri dati 3d mtl contiene i materiali se voi avete windows e ci fate doppio clic il visualizzatore di windows vi mostra già il risultato che avete ottenuto all'interno di gravity sketch nella maggior parte dei casi corrisponde abbastanza questo file mtl come vedete è molto piccolo potete aprirlo anche con il blocco note per vedere cosa c'è scritto dentro come vedete queste definizioni qua sono le definizioni dei materiali non è niente di stranissimo questi sono i nomi dei materiali che sono stati chiamati da gravity sketch in questo modo questo è il nome del colore diciamo e qui ci sono le caratteristiche questi tre numeri in pratica sono il colore da 0 a 1 i valori r g e b del colore e qui ci sono i dati di trasparenza di quanto è riflettente quindi sì è un file che potete anche cambiarvi voi è chiaro che se voi non ce l'avete se io adesso lo butto nel cestino e mi tengo solo l'obj lo riapro col visualizzatore di windows e come vedete è tutto grigio ha perso i materiali quindi quel file mtl voi dovete tenerlo sempre insieme all'obj e deve avere esattamente lo stesso nome dentro l'obj c'è praticamente scritto usa il materiale numero 5 e il materiale numero 5 sarà quello all'interno del file mtl ora quindi in blender butto via il piano butto via il cubo mi tengo solo la luce e la telecamera vado in importa obj perché l'ho esportato in obj e vado a prendere il file in questione promontorio 2 obj come vedete qua ci sono delle opzioni e in questo momento lascio tutto esattamente come sta e faccio solo import obj ed ecco qui la mia scena importata in blender e dovrebbe corrispondere a come la vedevo in gravity sketch durante l'esportazione questi materiali che vedete sono solo un'anteprima se voi vi spostate nella visualizzazione con le texture vedete effettivamente i materiali per come sono quindi per come sono nel senso delle informazioni che avevano riflettenti non riflettenti sono stati tradotti diciamo in queste impostazioni come vedete ecco qui i nomi standard che avevamo visto all'interno del file mtl questi materiali io li uso perché è molto facile adesso andare in edit mode premendo tab entro in edit mode sull'oggetto che come vedete è unico promontorio 2 tutte le facce sono già selezionate se non lo fossero basta premere A per selezionare tutto premendo P sulla tastiera di part quindi dividi come vedete separare e propone di separare per materiale c'è questa opzione se io scelgo by material ecco che esco dall'edding mode con un altro tab ecco che ho ottenuto tre oggetti che corrispondono ai miei tre materiali ecco perché in gravity sketch uso i materiali perché poi è facile separare le cose basta solo che ci sia un minimo colore diverso quindi in gravity sketch scegliete due verdi leggermente diversi e potete qui facilmente separare tutto quindi adesso questi qua posso dargli il nome e li posso chiamare alberi questo qui è promontorio mi va benissimo e queste sono altre rocce promontorio rocce facciamo e quindi sono quell'altro materiale salvo il file blend ora il file blend è salvato come vedete è qui guardate è grosso più o meno quanto era grosso l'obj io adesso questi qua posso anche buttarli via non vi servono più perché sono già all'interno del file blend quindi questi obj e mtl non li dovete conservare se ci fossero state delle texture sì ma sarà un altro argomento vogliamo andare a dare dei materiali diversi a questi oggetti quindi mi sposto sotto shading il discorso di dove recuperare materiali come sono fatti questo è un po' complesso per questo video allora io do un attimo per scontato che voi abbiate delle texture se ho delle texture di solito come sono fatte le texture hanno varie diverse immagini io importerò il minimo indispensabile diciamo che di solito c'è una texture di albedo che sarebbe il colore la trascina qua dentro a blender e la seconda più importante è la texture di normal che di solito questa qua con i colori blu azzurrini che rappresenta diciamo le imperfezioni della superficie albedo va collegata a base color e appena lo faccio vedo apparire in qualche modo l'effetto di roccia e questo potrebbe anche essere già sufficiente normal per poterlo attaccare a questo normal devo prima creare in mezzo con maiuscolo A cerca io cerco la parola normal trovo questo normal map che è un nodo intermedio che devo mettere quindi collego questo a questo normal a normal e questo color lo collego a color l'altra cosa che devo fare è scegliere qui non color come color space ecco adesso ho collegato queste due texture e se mi sposto nella modalità renderizzata posso vedere appunto l'effetto della luce magari adesso la sposto e la ruoto posso vedere l'effetto della luce sulle texture ora è proprio qui dove volevo arrivare il fatto che come vedete la texture è strecciata in maniera fastidiosissima negli oggetti più grandi risulta ovviamente grande in quelli più piccoli è piccola quindi non si comporta come voglio e in più su alcune facce in particolare si vede proprio male prendiamo per esempio questo oggetto qui e qui la vedo carina diciamo quassù invece è tutta strecciata questo è un problema di UV l'avevamo visto in un altro video al quale vi rimando se andiamo a vedere in UV editing come sono le UV di questi oggetti seleziono questa faccia corrisponde a questa zona della texture questa a quella lì ecco da dove arrivano le deformazioni torniamo andiamo a cercare un attimo le facce deformate e capiamo cosa gli è successo per esempio questa qui così deformata vedete lo è perché non corrisponde questa forma che vedo qui a quella lì e quelle super strecciate come questa ancora di più vedete è tutta allungata lì se io potessi qua scalare rimpicciolire come vedete riesco a regolare qua vi rimando all'altro mio video per capire questo concetto in questa situazione non posso mettermi a farlo per tutte le facce quindi o faccio un unwrap di nuovo oppure il trucco che uso più spesso io quando si tratta di rocce e cose del genere è di utilizzare una modalità di proiezione della texture che non è quella dell'uvie se noi selezioniamo una delle texture e premiamo ctrl T dobbiamo aver installato la dong node wrangler quindi vi invito ad andare a installarlo anche di quello ho già parlato in altri miei video se premete ctrl T in pratica crea da solo questi due nodi potete anche crearli a mano fate maiuscolo A e scegliete il nodo mapping e ce l'avete poi scegliete quest'altro e ve lo ricreate ma è più facile con node wrangler premere una texture e premere ctrl T questo non è nient'altro che il modo col quale appiccichiamo la texture sull'oggetto in questo momento usa le UV che è il metodo che ho descritto nel mio ultimo video notare che noi vogliamo che queste due texture si muovano insieme quindi è meglio se questo vettore lo collego anche all'altra in questo modo qualsiasi cosa io cambi qui lo cambia su tutte e due ora guardate se io per esempio qua cambio la scala X come vedete la texture sull'asse X si rimpicciolisce e cambia del tutto le sue proporzioni premo a nulla per capire insomma come questo comanda le cose qui è la provenienza se invece che UV noi scegliamo generated in questo modo adesso la texture è in pratica viene proiettata sull'oggetto e quindi funziona anche su oggetti con brutte UV o anche senza UV ora usando la scala qui posso andare a regolare le cose e quindi mi accorgo che cambiando il valore di scala cambia la proporzione della mia texture ma almeno si comporta nello stesso modo su tutto l'oggetto cioè non importa quanto è piccolo il sasso almeno adesso la roccia è tutta uguale se voglio cambiare più di un valore alla volta posso cliccare e trascinare in giù il mouse e provare a scrivere un altro valore vedete se scrivo 10 diventa tutto più piccolo se scrivo 0,1 diventa tutto più grande adesso che ho questa modalità generated mi è un po' più facile andare a regolare la cosa potrei riuscire già così a trovare un buon risultato si tratta di andare ad occhio quindi se per sbaglio fosse troppo grande però mi piace quello che fa basta che mantenga la stessa proporzione quindi che ne so 15 e meno 9 e rimane uguale ma più piccola è utile un'altra cosa qui invece di flat se noi scegliamo box ovviamente dobbiamo farlo su tutte e due non fa altro che un cube mapping quindi proietta dall'alto di profilo di fronte e quindi poi con questo numero andiamo semplicemente a regolare la dimensione e ovviamente possiamo andare a cambiare la rotazione ecco quindi che collegandolo a generated oppure a object a seconda di come volete interpretare questi numeri generated sono rispetto al mondo object rispetto alle dimensioni dell'oggetto potete quindi riuscire a trovare una soluzione questo box in più ha anche un'altra voce qui blend che serve a unire i lati per cui se noi mettiamo un numero un po' più alto tipo 0 2 0 2 va un pochino a sfumare i posti dove le texture cambiano guardate se io lo rimetto a 0 si crea una netta demarcazione qui se invece metto 0 1 0 1 crea un po' una sfumatura che a seconda se alzo del tutto la vediamo bene a seconda del tipo di texture potrebbe essere desiderabile oppure no con queste opzioni in più possiamo mettere una texture sull'intero oggetto senza preoccuparci del fatto che la roccia che abbiamo fatto sia grande o sia piccola tornando alla modalità illuminata guardate se io stacco la normale è tutto piatto che non ci sono dettagli scavati dalla luce se riattacco la normale ecco che la luce fa queste micro ombre tra l'altro se aumento di molto l'effetto è finto perché non è vero 3D in pratica aggiunge del dettaglio che non c'era siccome abbiamo materiali diversi andiamo a dargli un nome sensato questo si chiama ancora standard questo lo chiamo rocce quindi posso selezionare questi altri oggetti e dargli come materiale lo stesso rocce di prima però ne creo una copia premendo o il 2 o questo qui e adesso questo è diverso e siccome è diverso per esempio posso mettere qui U Saturation lo metto qui e qui come se fosse Photoshop Vellu è la luminosità se metto 0,5 vedete i sassi diventano più scuri se metto 1,2 diventano più chiari 1,5 sempre più chiari quindi qua è come essere in Photoshop e lavorare su questa texture 0,5 Saturazione la alzo diventano più colorate e posso anche cambiare leggermente il colore 0,6 diventano più verdi 0,4 0,45 Saturazione 1,2 quindi vedete posso ottenere un altro materiale a partire da quello di prima e magari lo sposto un po' rispetto all'altro e posso anche andare a cambiare il valore di scala insomma cerco di fare in modo che non corrisponda perfettamente a quell'altro e comunque sto usando la stessa identica texture potrei aver cambiato idea su qualcuna delle mie forme e magari vorrei togliere qualcuno di questi sassi da promontorio e dargli qualche altro materiale normalmente se andiamo in Edit Mode premendo L quando il mouse si trova su una certa forma io riesco a selezionare l'intera forma chiusa ma in questo caso sembra non funzionare non funziona perché Gravity Sketch praticamente ha separato tutte queste facce tra loro e quindi guardate se io ne seleziono una e la sposto vedete è staccata dal resto è venuta via senza essere collegata alle altre quindi tutte queste facce sono tra loro tutte separate ed è per quello che premendo L non riesco a selezionare l'intera roccia come lo risolvo devo dire a Blender di appiccicare tutti i vertici che sono vicini perché in pratica vedete c'è questo e c'è anche questo e a dire il vero ce n'è uno per ognuna di queste facce quindi qua non c'è un solo vertice ce n'è una miriade ogni faccia al suo devo dire a Blender di unire tutti i vertici che sono uno sopra l'altro entro nell'oggetto in Edit Mode seleziono tutto e premo M di Merge sulla tastiera M e scelgo By Distance scelendo By Distance posso qua inserire una distanza sotto la quale i vertici saranno uniti come vedete è una distanza piccolissima per cui in questo modo finirà per unire solo i vertici che effettivamente si sovrappongono tra loro potete anche notare che ha creato delle sfumature premete Sharp Edges e ritorna tutto in modalità Low Poly come la vedevamo prima se lo tolgo si sono create delle sfumature delle cose piuttosto brutte che in qualche caso si vedono anche a livello di materiale come risolvo il problema semplicemente qua nelle caratteristiche della Mesh sotto Geometry Data in pratica sono ancora presenti delle informazioni su come la luce si muove su queste facce che erano quelle di Gravity Sketch nella voce Geometry Data premo questo Clear Custom Split Normals Data togliendolo adesso Blender di nuovo fa lui i calcoli di come la luce cade sulle varie facce sono facce spigolose e quindi mi ritrovo di nuovo gli spigoli se faccio tasto destro Shade Smooth le può sfumare rimangono molto spigolose perché lo sono una soluzione è qui come vedete c'è Auto Smooth più basso è questo angolo più ci sarà uno spigolo vivo nel momento in cui l'angolo è superiore a questo valore alzando il valore alzo il momento nel quale Blender decide di mettere uno spigolo vivo e mettendolo lì vedo gli spigoli vivi dove c'è abbastanza variazione di inclinazione e altrimenti applica uno Smooth quindi provate e trovate la situazione giusta per la vostra scena oppure provate anche a toglierlo a volte funziona benissimo anche togliendolo adesso se vado in Edit Mode deseleziono tutto posso facilmente con la L selezionare delle singole rocce premo P come prima e le separo e scelgo Selection in questo caso e quindi mi porta fuori queste rocce che le chiamo Promontorio Rocce 2 in queste altre volendo posso scegliere un altro materiale quell'altro nuovo che avevo fatto per le prime rocce di nuovo lo modifico ancora una volta sotto Shading nelle caratteristiche che ne so Value lo porto su e le faccio più chiare e vado a cambiare la texture qui che sia diversa per gli alberi allo stesso modo porto dentro una texture di albedo una texture di normal magari porto dentro in questo caso anche una texture di roughness collego al base color collego roughness a roughness spesso sono linear le texture di roughness quella di normal come detto non color e il nodo normal map in mezzo ctrl T e devo collegare al mapping anche queste in maniera che si muovano tutte e tre insieme nel caso degli alberi di nuovo c'è il problema delle UV fatte da gravity sketch ci metto in mezzo come prima un hue saturation la voglio più luminosa in questo caso non ho voglia di cambiare le UV sarà sufficiente giocare un pochino con i valori di scala che corrispondano un pochino di più a quello che voglio se vado a cambiare la rotazione posso ottenere nel caso di alberi degli effetti di avvitamento niente mi impedisce di fare quello che ho fatto prima di collegarlo a generated o a object però essendo un albero qual è il problema in realtà io voglio che la texture fluisca e non sia in questo modo applicata come se fosse su un cubo quindi è meglio lasciare UV ed eventualmente lavorare con i valori di scala per riuscire a farla corrispondere di più a quello che abbiamo in mente rispetto al nostro oggetto ho aggiunto un po' di materiali diversi ho cambiato un paio di texture per una visione da lontano può anche andare abbastanza bene metto la luce in maniera diversa e un'altra cosa che si può fare con gli ambienti è aggiungere un enorme cubo che sia compresa all'interno e se noi andiamo nei materiali crea un nuovo materiale lo chiamo nebbia mi sposto sotto shading adesso sono all'interno del cubo qui e invece di collegarmi a surface butto via questo e cerco un nuovo volume principled volume e collego questo al collegamento volume però non surface metto una densità bassa tipo 0.01 0.05 ecco e mi crea un'ambientazione leggermente nebbiosa questa luce può cambiare colore leggermente più caldo e ovviamente potete anche cambiare il colore alla nebbia ho quindi anche le ombre volumetriche all'interno della nebbia proiettate tutte queste cose in EV sono regolabili qua sotto volumetrix potete decidere in base alle dimensioni della vostra scena dove la nebbia finisce dove inizia se la luce fosse troppo forte light clamping alzando questo valore all'inizio scompare tutto però più alto lo portate più riappare l'effetto bruciato sulla luce avere la luce in scena ma nello stesso tempo non averne il bagliore accecante quella che era una scena diciamo sintetica in gravity sketch può assumere già un aspetto più realistico un po' di texture danno una sensazione molto più realistica al tutto andare a scegliere l'inquadratura che vi interessa ci potete mettere la telecamera con ctrl alt 0 n view lock camera to view e vi spostate insieme alla telecamera cambiando un pochi di questi parametri potete ottenere un rendering già abbastanza carino e quindi adesso per esempio scelgo 4k qua tra le opzioni di rendering premo f12 e mi ritrovo un bel rendering 4k pronto per essere portato dentro al programma di pittura per essere ovviamente migliorato e sistemato da quelle che sono solo forme semplici però la parte volumetrica è già sistemata di pittura Grazie a tutti. Grazie a tutti.